Green Pass sì, Green Pass no, tampone obbligatorio per tutti gli sportivi ogni settimana, anzi no, meglio l'autocertificazione. La confusione attorno alle nuove direttive per la ripresa della pratica sportiva è stata tanta, mitigata solo negli ultimi giorni da una serie di FAQ e chiarimenti. In attesa che ogni dubbio venga fugato e che la situazione si normalizzi, ci sono alcune amministrazioni che hanno voluto tendere una mano alle famiglie, costrette in alcuni casi a dover sostenere costi proibitivi per pagare i tamponi necessari. Una di queste amministrazioni previdenti è Rosà. Sempre nella fase di collaborazione con le associazioni sportive, grazie alla farmacia comunale, abbiamo dato la possibilità ad effettuare dei tamponi a tutti gli sportivi con dei prezzi agevolati all'interno proprio della farmacia comunale, per cui un segno di vicinanza ma anche di ripartenza è soprattutto un segnale anche positivo verso i giovani, quello di fare sport in sicurezza per il futuro. Sono tante le realtà sportive di Rosà, c'è un polo che sta crescendo di numero che è quello del calcio Rosà con il settore giovanile, ma ci sono tantissime altre attività. Quanto importante è per l'amministrazione comunale poter contare su una continuità con lo sport dei ragazzini, dei bambini e soprattutto con anche l'aiuto delle famiglie? Sì, quando parliamo di sport e soprattutto a livello calcistico, locale, calcio Rosà, ma tutte le altre attività, si parla di giovani, per cui quando si parla di giovani si parla sport, stare assieme, sociale, modo di vivere e soprattutto insegnamento, stare in squadra.